allora la fedeltà dunque un attimo che consulto l'engiclopemia allora la fedeltà può essere una scelta etica faccio una piccola cappella entro tuttiva oppure diciamo una contengenza perché non è che sempre ci stanno le occasioni poi ci vuole una certa organizzazione mentale per dire oppure quella che preferisco io una conseguenza d'amore perché se tu ami ami veramente sei coinvolto totalmente non c'è tentazione che tenga ci può trovare claudia schiffer brad pritt non lo vedi proprio a mia quando mi fa venire nervoso quel tipo d'uomo che dice sai lei mi ha provocato ma che uomo sei che cosa c'è nel cervello al posto dei neuroni gli ormoni e qui mi si spiega l'espressione testa de ca no è un uomo è un uomo che è un uomo che mistifica o mistifica dato l'argomento quindi in penultima analisi la fedeltà è una coerenza verso ciò che tu stai vivendo in penultima analisi perché in ultima analisi l'infedeltà è una coerenza verso ciò che tu non stai vivendo perché non è che tutti sanno la fortuna di avere dei rapporti meravigliosi che ti completano ti totalizzano io per esempio no ci ho diverse donne dentro da me no cioè salvatore mio marito già tanto se ne capisce una perciò le altre vanno un buon spasso no allora ho provato diciamo a risolvere così l'enigma ci ho detto a mio marito salvatore famoso filosofo René Descartes salvatore Descartes però Descartes ci ho detto sendo un po' salvatore ma se io ti tradisso no? cioè ti ti dispiacesse? ma che mingga vuoi che ti sopeghi a te? così parlo zarapuzza vabbè sendo un po' sendo un po' shopper hour guarda che a mia gli uomini mi guardano perché io ho ancora il mio stessa pin dove vato vato autolavaggio ci ho mettero supermark mi guardano mi guardano e poi questa vuoi oggi un gambare sodo domani un non berignoc dopo domani un amaro averlo averlo però uno dice se vuoi venire a prendere qualcosa su di me quindi se io ci stassi tu ti inalberassi tu ti inalberassi? ti inalberassi? ti inalberassi? no ma ingazzassi? si mi fa piacere ma fa piacere ma fa piacere ma fa piacere ma fa piacere salvatore ma questo diciamo per amor mio o per amor proprio? no ma da fastidio che qualcun altro tocca qualcosa che è mio ma se tu non mi tocchi ma tu lo sai che io ti potrei separare per abbandono della tetta coniugale comunque prima di congelarmi da voi lancio un monitor all'uomo che ci prova con la donna coniugata ed extra coniugata senza rispetto una donna può anche avere un attacco domani sei emotiva però pure se ce l'hai lungo ma non ci arrivi al cuore